Sabato 22 ottobre, dalle ore 8, al Consorzio Universitario di Via Prasecco 3 a Pordenone sarà presentato il Linux Day 2022, organizzato da Pordenone e Linux User Group, APS e Comune, che coinvolgerà oltre 400 persone, tra studenti delle scuole superiori e post-diploma, curiosi e interessati al mondo del software libero, in seminari e laboratori sulla cultura e l'utilizzo consapevole degli open source. L'ingresso è libero e gratuito. Giovani in informatica è un binomio inscindibile. I giovani, e non solo loro, vivono immersi nell'informatica quasi 24 ore su 24. Questa iniziativa dà loro la possibilità di individuare rischi, pericoli, potenzialità e opportunità. E a proposito di opportunità, ovviamente qui si parla di software libero, per così dire l'altra faccia dell'informatica rispetto alle grandi multinazionali che occupano il mercato in modo monopolistico. Il valore aggiunto è che qua ci sono anche crediti formativi, non ci si limita a seminari che pure sono molto pratici, ma poi i ragazzi possono costruire qualcosa e possono presentarlo alla fiera dei radiomatori. Quindi si dà loro anche, diciamo così, un palcoscenico. Quindi diciamo che è un'iniziativa assolutamente positiva e il Comune per questo ha inteso sostenerla. Non dimentichiamo che sono coinvolti tanti tanti giovani delle nostre scuole. Linux Day è una manifestazione nazionale che si tiene normalmente il terzo sabato di ogni ottobre. Il sabato 22 ottobre all'Università di Pordenone, Consorzio Universitario in via Prasecco, faremo una giornata aperta a tutti e alla cittadinanza. Ci sono già centinaia di iscritti delle scuole che hanno sposato il nostro progetto. Vuol dire che in quella giornata tutti gli appassionati, gli studenti, chi vuole, può venire a vedere cosa si fa con il software libero, dal video editing alla suite, l'alternativa d'ufficio LibreOffice, al gestionale per imprese due, alla famosa scheda Arduino, ingegnerizzata e progettata interamente in Italia, tutto con software e hardware libero. Le scuole che hanno sposato il nostro progetto non termineranno il giorno 22 ottobre, ma andranno avanti per quattro settimane con i nostri tutor. I nostri tutor andranno nelle scuole, i ragazzi prenderanno, acquisiranno dei crediti formativi e andranno avanti col progetto iniziato il 22 ottobre. La presentazione finale dei progetti sarà il 19 e 20 novembre alla fiera del Radiomatora qui a Pordenone, in cui alcuni rappresentanti degli studenti verranno a presentare i progetti.